Punto numero 13. Non serve essere un fenomeno di tecnica, quello che gli anglofoni chiamano il bass wizard, per fare la professione del bassista. Vengono richieste alcune cose come appunto sono i fondamentali rudimenti di cui già vi ho parlato, ma nessuno, mai nessuno, salvo che non facciate dei progetti proprio specifici, vi chiederà se sapete fare le sestine di slap, se sapete fare il double thumb, se sapete fare gli accordi diciamo rivoltati con le tredicesime e il fraseggio come Alan Osworth. Non vi viene richiesto, vi viene richiesto solo in determinati progetti specifici che rappresentano la nicchia della nicchia di quello che è il lavoro. Quindi nella maggior parte dei casi quello che vi viene richiesto è avere un buon suono sullo strumento, un ottimo timing, conoscere i generi, conoscere gli stili, poter leggere qualcosa, ma nessuno vi chiederà mai dei fraseggi o delle frasi a 160 bpm, salvo che voi non facciate i pezzi della Day Waker Band, però quello è un discorso a parte naturalmente. Tendenzialmente quello che vi viene richiesto è di essere un musicista solido e di questa cosa ne abbiamo già parlato nei consigli precedenti.